Perché un po' grazie a loro, se siamo qui, nel senso che sotto l'amministrazione Tomasinski c'è l'assessorato di Boscarol, è il primo anno, siamo approdati qui a Gradisca con grande piacere, non dico ogni anno senza piagerie, perché si vede che siamo cresciuti da quando siamo qui, non credo che sia un caso, se il nostro è diventato un progetto triennale della regione è anche grazie a Gradisca e soprattutto grazie a Gradisca. Poi abbiamo qui gli amici e le amiche di Caledoscenza con cui portiamo avanti il progetto ARS, che ormai parte integrante di Invisible Cities negli ultimi anni e ci permette di approfondire temi scientifici, della divulgazione scientifica, della sostenibilità ambientale e di contaminarci a vicenda con i nostri linguaggi. Quindi siamo un po' tutto lo staff allargato e diamo la benvenuta ad Alessandro Pagotto, nella tua città e anche per te. E' un paese che ci fa piacere che ci siamo trovati in sintonia, ringrazio ovviamente Marco per la continuità di supporto e per tutto il di più che fate, non è banale che un comune sostenga al di là delle economie, dei soldi che sono importanti, ma come progetto. Sarà un sano, grazie. C'è un po' di problemi che ti ha una positiva. E ringraziamo il Circo Larci Schianto che insieme a noi quest'anno ha creduto e investito in questo progetto, che è un primo tentativo di creare uno spazio festival ibrido, fra lo spazio confronto, chiacchiera, confronto con gli artisti, bevuta, relax per lo staff, insomma ci piace avere un luogo proprio collocato a metà fra le nostre location, che speriamo sia un luogo di intersezione durante tutte le giornate del festival. E' chiaro che va curato, va abitato, è una casa che va abitata, ognuno come vuole, vedete gli arredi pensati soprattutto da Gioele, che sono fatti apposta per essere riconfigurati ogni volta, spostati, girati a seconda dell'occasione. E' un luogo su cui vorremmo investire e crescere nei prossimi anni, ma anche per riportare in vita, anche se momentaneamente, degli spazi sfitti che purtroppo ci sono. Lascio la parola intanto da Alessandro, poi a Marco. Allora, intanto grazie Alessandro, un saluto a tutti da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale. Ha detto bene prima Alessandro, ringrazio subito chi ha portato avanti, ha creduto in questo progetto e quindi in primis il sindaco, grazie Linda. Eravamo insieme. Eravamo insieme, va bene, ma tu eri sindaco, io ero assessore, insomma quindi abbiamo condiviso questa cosa, però naturalmente è merito a chi mi ha preceduto se oggi siamo qui, anche perché io a distanza di due mesi non avrei potuto fare questo sicuramente. Sicuramente, quindi quello che va detto è che, a parte il ringraziamento a Linda, è che riteniamo che Invisible City sia un festival di arte contemporanea di grande valore. Noi siamo contenti di avervi qui a Gradisca e pensiamo che attraverso anche a questi momenti qui rinforziamo ancora di più quello che è un po' il ruolo di Gradisca della nostra città per quanto riguarda il panorama dell'arte contemporanea su tutto il territorio regionale. Quindi credo che noi su questo rappresentiamo un punto di riferimento e lo siamo così anche, visto che siamo stati associati anche nel festival con Gorizia, in Nova Gorizia, credo che questo già dia la misura anche di quello che sarà l'evento di Go2025. Quindi Gradisca gioca un ruolo importante anche in questo evento che sarà il prossimo anno e soprattutto lo gioca per quanto riguarda l'arte contemporanea. Invisible City porterà adesso da qui ai prossimi cinque giorni perché è fino a domenica. Avremo un susseguirsi di eventi e performance su tutto il territorio. Saranno performance che continuano a ricercare, a fare ricerca, innovazione, no? Ma anche fanno riflettere su tematiche del nostro vivere quotidiano, tematiche che sono più che mai di attualità, tra cui anche il tema dell'inclusione, quindi tematiche sulle quali noi come amministrazione, già con l'INDA, abbiamo iniziato a fare molto anche in vari settori e su questo noi ci crediamo. E quindi penso che sia importante oltre all'aspetto artistico ma anche che ci abbia anche un senso anche dal punto di vista della riflessione di quello che sta alla base di tutto. Il festival si sviluppa nelle vie della città, penso che un aspetto importante è che, lo vedremo tutti, ma qua vedo che sono tutti anche del tuo staff, no? Del Sanno Bene, si sviluppa in quelli che sono i contesti pubblici della città. E allora, ecco, un aspetto anche che riconosciamo questo festival, ci porta a riscoprire la nostra cittadina, gli angoli, i momenti, i punti suggestivi della città da un altro punto di vista attraverso alle performance che vengono di volta in volta prodotte. Quindi avremo delle manifestazioni, degli appuntamenti nella corte del comune, piuttosto che nell'atrio, nella via, spero, ciotti, teniamo, incrociamo le dita per il tempo, no, speriamo di farla nella via perché mi farebbe molto piacere perché ha un altro senso, naturalmente. Andremo pomeriggio, tardo, alle 19 nel complesso del castello che abbiamo da poco acquisito, anche questo frutto di un grande, grande lavoro portato avanti negli anni, no? E che siamo orgogliosi adesso di poter aprire la cittadinanza in qualità di proprietari. Quindi sicuramente anche questo è un passaggio molto importante e quindi ci tenevamo molto anche di fare questa rappresentazione lì all'interno. Eccoci. Quindi non voglio dilungarvi molto perché sennò qua ci squaglia il sole. Provare il tempo. Si scalda. Si scalda soprattutto. Si scalda. Allora io direi grazie all'associazione 4704, ad Alessandro, a Miriam Maggioele, a tutto lo staff, a tutti voi che siete qua numerosi e che credete e sostenete questo festival. Grazie al sindaco che ha preceduto e quindi per aver creduto in questo e grazie a chi assieme al comune diciamo garantisce tutto questo anche dal punto di vista economico e quindi penso naturalmente alla regione Friuli Venezia Giulia e alla fondazione Carigo che sostiene questo importante appuntamento. Quindi l'invito a tutti, ecco, a coloro, ai cittadini e anche agli avventori di Gradisca e a seguire il festival e a tutti gli appuntamenti che si susseguono da qui a domenica e sono tantissimi perché sono uno dietro l'altro quindi però sono dei momenti importanti che da parte nostra invitiamo a seguire. Ecco, grazie. 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 Comunque la nostra è una direzione artistica a tre e quindi ci tengo sul palazzo di mettere Gioele Peressini e Miriam Paschini perché insomma l'abbiamo pensato e organizzato insieme. No, no, fai tu. Facciamo insieme. Ecco, questo è il tuo. Non mi rafferrò, sono su, sono su. Chi è il prezzo? Eccolo. Eh, qua! Ehi, grazie.